chat gpt intelligenza artificiale ma si può davvero fare soldi online guadagnare dei soldi crearsi uno stipendio partendo da zero grazie all'intelligenza artificiale soprattutto grazie al chat gpt versione 3.5 che tra l'altro è gratuita beh se sei interessato a questo sei nel video giusto ti spiego se tutte queste cose sono veritiere o meno iscriviti al canale per rimanere aggiornato su altre notizie di business online e tecnologia se non mi conosci ciao io mi chiamo massimo sono imprenditore digitale in questo canale parliamo di business online e tecnologia e crescita personale andiamo subito al fulcro dell'argomento chat gpt ragazzi siamo ormai al giorno d'oggi con l'intelligenza artificiale è possibile veramente riuscire a fare soldi online ma voi mi direte ma mi stai prendendo in giro no non ti sto prendendo in giro è possibile semplicemente facendosi aiutare dall'intelligenza artificiale nella creazione di contenuti voi dovete creare dei contenuti che siano audio video testi immagini tutte queste cose le potete creare con l'intelligenza artificiale in maniera completamente gratuita vi invito ad andare a visitare la mia playlist corsi completi gratis dove trovate tra la e anche la playlist chat gpt perché vi spiego veramente come creare da zero contenuti audio video testi libri tutto quello che volete grazie all'intelligenza artificiale senza dover spendere nemmeno un euro ovviamente sono tutorial e corsi base a breve usciranno anche i video corsi completi sul mio sito web massimo pellegrino.net che vi invito comunque a visitare nel caso comunque foste interessati a una consulenza da parte mia a pagamento potete contattarmi tranquillamente massimo pellegrino.net sarò ben lieto di trovare la soluzione migliore alle vostre esigenze magari avete un'azienda volete iniziare a investire sull'online volete iniziare a capire come lavorare online oppure se è un privato ma vuoi comunque iniziare a capire come è possibile trarre un profitto dall'online e con l'intelligenza artificiale bene contattami sarò ben lieto di supportarti ma ora apriamo una bella parentesi grande così dove vi spiego se è possibile come è possibile guadagnare con l'intelligenza artificiale anzitutto di intelligenza artificiale esistono diverse tipologie di intelligenza artificiale diversi siti web quello che io consiglio è chat gpt versione 3.5 gratuita quindi chat.openai.com andate sul sito vi registrate magari con un account google o gmail e iniziate a interagire con questa chat testuale nel quale potrete scrivere quello che volete che l'intelligenza artificiale faccia per voi per esempio con l'intelligenza artificiale chat gpt piuttosto che altri siti più evoluti che magari in parte si appoggiano chat gpt per la creazione dei contenuti trovate in descrizione nei commenti tutti i link alle piattaforme che siano dbrain che siano flyki e altre piattaforme che permettono anche di creare contenuti audio video cioè voi dite che volete creare un video per il vostro canale youtube dove magari voi non volete metterci la faccia quindi volete creare un cash cow channel e andate a farvi creare il video in automatico oppure con piattaforme un po meno evolute ma ovviamente meno esose perché queste tipologie di piattaforme richiedono degli abbonamenti mensili per esempio flyki che è quella che costa meno mi avviso ed è molto comoda per creare dei cash cow channel vi permette di andare a inserire il testo il copione del vostro video che avrete creato appunto con chat gpt e lui vi creerà il video con le varie slide con il testo con i sottotitoli e con il voice over che sceglierete voi quindi con la voce fuori campo che parla col testo creato dall'intelligenza artificiale e le slide che scorreranno verranno scelte automaticamente da flyki in modo che possiate possano venire prodotte perdono immagini inerenti all'argomento di cui si sta parlando e lo fa veramente ed è una figata pazzesca poi se volete potete andare a modificare l'immagine il video per ogni slide nessun problema ma sappiate che fa già un ottimo lavoro da sé link in descrizione tra l'altro per aderire a un'offerta speciale che vi ho fatto riservare detto questo ma perché mi dici creazione contenuti perché come sapete come dico sempre in questo canale youtube uno dei migliori business online al giorno d'oggi è la creazione di un canale youtube atto a monetizzare quindi dove voi pubblicate pubblicate contenuti arriverete requisiti minimi di monetizzazione che sono mille ore pardon mille iscritti e 4000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno potrete attivare la monetizzazione una volta che google vi dà l'ok guadagnare potrete guadagnare dalle pubblicità trasmesse all'interno dei vostri video la tipologia di guadagno ovviamente con youtube cambia a seconda dell'argomento di cui parlate quindi se parlate di gaming e intrattenimento prenderete una cifra se parlerete di business crescita personale guadagnerete molti di più anche fino a 10 15 volte di più quindi magari un canale di finanza con 30 mila iscritti o 20 mila iscritti guadagna di più di un canale youtube con 120 mila iscritti che parla di gaming per dire no assoluta quello che fa comunque non sono gli iscritti ma sono le visualizzazioni perché voi potete avere anche 50 mila iscritti ma se non performano e fate poche view vedo youtuber che hanno 10 mila iscritti e poi fanno video con 100 visualizzazioni quindi occhio però sappiate che youtube è una piattaforma ottima per monetizzare serve tempo costanza ma grazie all'intelligenza artificiale la creazione dei contenuti è diventata veramente semplice e alla portata di tutti un altro modo ovviamente adesso rimanendo sul discorso del business online di fare soldi con intelligenza artificiale completamente gratis è la creazione di libri creazione libri che ho già fatto vedere con alcuni tutorial su questo canale a breve uscirà anche un corso completo di creazione libri quindi di personal publishing dove vi spiegherò appunto come creare i libri con l'intelligenza artificiale come utilizzare le parole le keywords corrette come andare a spingere la maniera corretta con youtube ads piuttosto che google ads facebook ads instagram ads linkedin ads e ultimo ma non meno importante anzi più importante di tutti con le amazon ads quindi con le ads di amazon per spingere il vostro libro e cominciare a trarne un profitto vi dico questo perché se voi pensate di poter guadagnare soldi mettendo 10 libri su amazon vi state sbagliando perché o avete una community bella grossa che vi segue per bella grossa non intendo 10.000 iscritti a un canale youtube ma 100.000 500.000 iscritti un milione di iscritti per cominciare a fare soldi veramente vendendoli altrimenti dovrete investire soldi in pubblicità e non c'è niente da fare perché un conto serve a contatto di guadagnare 50 100 euro al mese ma se ne volete fare veramente un'attività dovrete investire un bel po di soldi in pubblicità cosa che potete evitare se andate a fare un canale youtube parallelo inerente appunto questa nicchia questo settore per il quale voi scrivete libri al quale far vedere i vostri le vostre pubblicazioni e quindi potrete vendere sicuramente di più se invece avete veramente un profitto sappiate che più investirete in pubblicità più venderete è un gatto che si morde la coda ricordatevelo quindi si può veramente guadagnare con l'intelligenza artificiale sì non fatevi fregare nel senso che non è la quantità di contenuti audio video e testuali che voi andate a mettere ovviamente più ne mettete più la possibilità che performino sicuramente c'è ma bisogna farlo con criterio quello che consiglio è di non appoggiarsi al cento per cento all'intelligenza artificiale ma appoggiarsi a dei professionisti tipo me io me ne occupo posso fare veramente in quanto mi occupo anche di ghostwriting che possano e anche di elaborazione di video per canali youtube anche in cash cow channel che possono aiutare alla creazione di contenuti appoggiandosi sì all'intelligenza artificiale però andando a ottimizzare i contenuti di modo che performino il più possibile io vi ringrazio avermi seguito mi raccomando se vi interessano questi argomenti iscriviti al canale perché non ti costa nulla ma mi dai davvero una grossa mano per poter continuare a portare contenuti interessanti che magari ti piacciono su questo canale noi ci vediamo presto in una prossima puntata ciao ciao